Le abruzzesi di Serie D pronte a scendere in campo per la terza giornata. Si gioca domani alle 15, fari puntati sulle ambizioni di Chieti e l'Aquila. Ma c'è anche la partitissima tra Avezzano e Samb. Il notaresco sogna la prima vittoria. Il Chieti sulle ali dell'entusiasmo del derby vinto contro l'Aquila e della conclusione positiva del caso Poglio è impegnato in casa del Roma City, allenato dall'exteramo Maurizzi. Avversario ancora indecifrabile, dopo la goleada rifilata al notaresco al debutto è stato travolto 4-0 dal Riccione. A Riano, sede dei Capitolini, ci saranno tanti tifosi neroverdi sognando il primo gol di Matteo Ardemagni sulla via del recupero dopo un problema fisico in Coppa. Chianese però conta sull'apporto in zona gol di tutti gli uomini del reparto da Mancini a Mercuri, da Barbetta a Salvatore. Si gioca al Riano Athletic Center. L'Aquila cerca l'immediato riscatto in casa contro il Real Monte Rotondo. Epifani può contare sulla squadra al gran completo e all'imbarazzo della scelta. Il tecnico pescarese in settimana ha provato diverse soluzioni tattiche in vista della sfida di domani. Ci sono tutte le condizioni per ritrovare il gol e i punti davanti al pubblico amico ma occhio anche all'insidia del meteo. È prevista pioggia nel capoluogo e il fattore potrebbe condizionare la prestazione di Banegas e compagni abituati a cercare sempre la via della porta attraverso il gioco. Epifani però ha già parlato ai suoi. Zero alibi. L'imperativo è ritrovare la vittoria e rilanciarsi in classifica. Allo stadio dei Marsi il match clou. La Vezzano ospita la Sambi in testa a punteggio pieno insieme al campo basso. Marsicani solo un gradino più in basso ma con una voglia matta di sorpassare il rosso-blu nello scontro diretto. I biancoverdi in salute e pronti ad alzare l'asticella con gli arrivi del difensore Ferrani e dell'attaccante Ortolini, elementi esperti di categoria superiore. Domani saranno già a disposizione di mister Ferrazzoli. La squadra marchigiana imbottita di ex. Il portiere Coco voluto dal DS De Angelis, anche lui un passato in biancoverde, è sbardella oltre 40 partite con la casacca dell'Avezzano. Previsto il grande pubblico al dei Marsi potrebbero essere oltre 2.000 gli spettatori di cui 600 da San Benedetto. Il notaresco, un punto dopo le prime due giornate, cerca la prima vittoria stagionale sul campo del Sora. Il tecnico Bruno però dovrà registrare una difesa che ha subito 10 gol nei primi 180 minuti della stagione.